che meraviglia sud di milano sotto la nea bellissima guardate che bella la cascina innevate bellissima le risaie innevate che panorama meraviglioso l'uscello ghiacciato guardate che spettacolo che strada magnifica è bellissima fatta in ogni periodo dell'anno può essere la primavera, l'estate, l'inverno è sempre bellissima questa strada è uno spettacolo guardate gli alberi che belli il cielo che meraviglia 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 guardate quest'alber che bella che meraviglia stupendo non 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 non